La discarica non è permeabile e minaccia il sottosuolo. Preoccupano i primi dati emersi dall'incidente probatorio effettuato sulla discarica di Conversano in contrada Martucci. Sito sequestrato e sul quale indaga la procura di Bari per presunto disastro ambientale. Sono più di cento le anomalie riscontrate dai pariti nominati dal Tribunale barese nel corso degli accertamenti tecnici nella vasca di emergenza. I dati sono stati divulgati dai consulenti dei comuni di Mola di Bari e Conversano. L'incidente probatorio diretto dall'ingegnere Luigi Boeri, nominato dal Tribunale di Bari, è stato effettuato tra il 9 settembre e il 9 ottobre scorsi. Le indagini nella vasca A, quella di emergenza posta sotto sequestro e vuota, hanno riguardato misurazioni di tipo geoelettrico della guaina utilizzata per impermeabilizzare la vasca e impedire il passaggio del percolato nella falda. Su 34 punti ispezionati sono risultate 108 lacerazioni, una su quattro di gorse dimensioni. Lacerazioni provocate dal passaggio di mezzi cingolati, giudicati troppo pesanti per questo tipo di attività. Gli esperti hanno espresso dubbi anche sulla condizione della barriera minerale che dovrebbe evitare l'intrusione del percolato. Il progetto iniziale prevedeva l'impiego di un metro di argilla, compattabile e impermeabilizzante, mentre è stata rinvenuta terra rossa con caratteristiche argillose e inadeguate allo scopo. Altre perplessità sulla permeabilità della discarica hanno fatto emergere le prove con l'acqua, svolte su 11 punti della vasca e dei suoi argini. La prova, eseguita per 10 giorni di fila, ha dato gli stessi risultati. L'acqua è finita nel sottosuolo. I primi risultati dell'incidente probatorio hanno confermato l'ipotesi di inquinamento provocato dall'intrusione del percolato e delle sostanze in esso contenute nella falda. Per questo, i sindaci di Mola, Conversano e Polignano hanno chiesto agli inquirenti e al Comitato Tecnico Regionale, l'organismo che insieme all'ARPA Puglia sta seguendo le opere di risanamento e bonifica del sito, di estendere le indagini alla falda acquifera.